Servizi sociali, lavori pubblici, rispetto alle precedenti amministrazioni non è cambiato nulla. Si continua a perseverare nelle trattative private dove si presenta un solo soggetto, con un ribasso del 1,4%. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo dare attuazione al programma? Allora, il problema di lavori pubblici si risolveva con la gestione alla stazione che ha appaltato. Sto portando fuori dal palazzo la ricerca e la selezione dei fornitori dell'Embresa. Perché? Ma su questo sto accertando. Ci sono affidamenti dove si presentano solo un'azienda, che sono aziende che hanno già fatto parte dei lavori effettuati nel fondo del Comune, in cui c'è qualche problema. Però, consentitemi di prendere gli atti, di ricevere gli atti, perché si richiedono e si aspetta anche settimane. Per quale spazio? Io parlo di lavori pubblici. Se i lavori pubblici va aperto una finestra, facciamo entrare un po' di ossigeno, e cerchiamo di capire che succede all'aperto. Perché io non ci sto capendo di niente, ho cercato di ricostruire un record di tutto il 2015 e io non posso assolutamente vedere che vi sono, vengono invitati con una crisi economica che è il tanaglio del nostro Paese, dove c'è gente che gli imprenditori cercano lavoro perché stanno chiudendo e io vedo che vengono invitati e ditte, quando vengono invitati e ditte perché hanno una specializzazione rispetto a quel tipo di lavoro e guarda caso, decidono di non venire. Guarda caso chi si presenta, si presenta lui, questo soggetto, probabilmente questo soggetto si è presentato anche qualche altra volta da solo e non sto facendo riferimento allo stadio. cerchiamo di capire cosa sia successo, vediamo se le vite che eseguono i lavori del 2015 sono diverse da quelle del 2012, quando i lavori pubblici sono sbagliati, sono viaggini, diciamo, i lavori pubblici li apriamo alla finestra, però con le carte. Io ho fatto richiesta di atti all'attuale dirigente affatato di avere un report sul 2015 scritto appena, prima delle mancanze di Pasqua, venerdì sono venuto al Comune e ho scritto voglio per ogni affidamento dato, per sapere la procedura, il tipo di procedura utilizzata, quante ditte si sono presentate e con che tipo di ribasso. Sui servizi sociali aprirò una finestra, perché oggi mi vorrò dedicare a questo, dove il piano sociale di zona grida allo scandalo che non risponde alle esigenze di un territorio, ma vediamo cose che però, con le carte, perché quelle me le hanno date venerdì, ce le ho così nel confondo della macchina.